Grazie, buonasera a tutti. Sarò ultra breve per non togliere tempo ai protagonisti della serata, che sono ovviamente gli artisti e le personalità, gli enti premiati in relazione ai dritti umani. Mentre venivo qui pensavo a qualcosa di significativo da dirvi in 30 secondi. Allora mi è venuto questo, ci siamo sempre detti nelle passate edizioni che il senso di serate come queste è cercare di creare una commistione fra esperienze umane e culturali di vario tipo e secondo me, quindi pensando alla cultura o alla conoscenza in generale, mi chiedevo quale fosse il significato essenziale della conoscenza. Credo di poter dire che a mio avviso il significato della conoscenza sta proprio nella possibilità di poterla in qualche modo tramandare e divulgare e renderla disponibile a tutti, renderla fruibile. Gli umanisti rinascimentali affermavano, in maniera molto umile i grandi umanisti rinascimentali, affermavano quando pensavano al mondo classico, noi siamo i nani sulle spalle dei giganti, cioè riuscivano a servirsi della cultura dei loro predecessori, a salire sulle loro spalle e a guardare un po' oltre. Credo che non ci possa essere cultura senza questo modo di concepirla e credo che questo tipo di conoscenza ci rende liberi e rende anche il nostro linguaggio libero. Quindi io vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Grazie. Buonasera a tutti. Ci rivediamo ancora una volta in questo bellissimo teatro. Sottoscrivo in pieno quello che ha detto il dottore De Marco perché la conoscenza è una cosa fondamentale del nostro vivere, del nostro essere. Vorrei giusto perdere dieci secondi per ricordare il Bernini e il suo David. Aggiungerei alla conoscenza, quindi agli sforzi che dobbiamo fare per questo tentativo nella nostra vita, di essere un pochettino più dinamici perché è proprio una scultura che rievoca il dinamismo piuttosto che la meditazione di Michelangelo per esempio. E quindi proprio in questa epoca dove dobbiamo rifugire le paure e la nostra vita indirizzarla verso questo dinamismo di conoscenza e di cultura per cercare di superare un po' i problemi che stiamo vivendo un po' nella nostra società con questi problemi che abbiamo di ordine pubblico e di quant'altro. Benvenuto a tutti e quindi buona serata a tutti. Ci rivediamo quindi per le prime azioni. Volevo precisare che il Maggiore Miulli ha fatto un breve cenno al Bernini. Il comandante Miulli viene dal nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze e poi è stato al comando di quello di Bari, di Puglia, Basilicata e Molise. Oggi è al comando dell'undicesimo battaglione in un altro settore. Prima compagnia. E quindi diciamo adesso in un altro settore però è sempre amante dell'archeologia, dell'arte, della storia dell'arte e via dicendo. Grazie, a più tardi. Grazie. Dopo questi due illustri interventi non mi rimane altro che darvi una buona serata. Vedo che ancora una volta Italia Narte nel mondo è riuscita a realizzare qualcosa di bellissimo in questa cornice altrettanto fantastica. Quindi è inutile prolungarci con questi nostri interventi e diamo spazio appunto agli artisti e a chi ha meritato questi prestigiosi premi per l'arte e per i diritti umani. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ringrazio tutti i convenuti che ci onorano e danno anche soddisfazione alle fatiche degli organizzatori per questi eventi che ormai sono diventati... Il microfono, colonnello, grazie. Per cui benvenuti a Lecce e spero che la cerimonia e l'evento sarà di vostro gradimento. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Buonasera al comitato, d'onore a Roberto e Dario Chiavareni. Contentissima di essere con voi, di ritrovarvi e di condividere questa serata e di presentare anche, presento i saluti dalla Francia, da alcuni francesi che sono qui. ha portato degli artisti della Belgia, della Guadalupe, e anche il signore Jean-Paul de Bernice, di un'accademia francese che si chiama Merito e dedizione francese. Ecco. Grazie Maria. Maria Torrelli, che usa il cognome, quando viene qui usa il cognome del marito perché è il marito di origine italiana, e Maria Lyon. Sì, poi dopo avremo una piccola sorpresa per i nostri amici francesi. E grazie alla nostra referente di Italianarte in Francia. Carla Di Lascio è una nostra referente, e la tua città di provenienza? Montella. Ci sentiamo spesso, è una donna fortissima, ha superato un lungo periodo di tensione che io conosco, e lo sottolineo soltanto non per raccontare i tuoi fatti, ma perché sei una donna molto molto forte. Origine mediterranea. Origine mediterranea, senza altro. Grazie. Grazie a voi. Sì, io devo ringraziare soprattutto i fratelli Chiavarini per questa opportunità che ci dà ogni anno di poterci ritrovare. Persone, diciamo, che siamo lontane, di ubicazione lontane in questo grande paese, nel mondo, diciamo, visto che ci sono persone che vengono in tutto il mondo. Il piacere soprattutto di respirare un'aria sana, un'aria sana, e sto parlando dell'arte chiaramente, e anche dei diritti umani in questo mondo, diciamo, che oggi è piuttosto tumultuoso, almeno potersi ritrovare in un ambiente bellissimo, che ha una lunga storia alle spalle, e parlare di arte e di diritti umani che in qualche modo si possono anche associare. Ripeto, ringrazio i fratelli Chiavarini, e grazie a tutti voi per stare insieme per questa magnifica sera. Grazie a tutti gli artisti, perché sono loro, che poi costituiscono la colonna portante della nostra associazione. Anche perché le persone, lo dico a tutti, le persone che vi stanno parlando hanno rapporti con noi da dieci anni e oltre, quindi sono persone che hanno collaudato un rapporto in interscambio culturale di livello internazionale. E la personalità che stiamo per chiamare adesso è uno dei testimoni più accreditati, perché abbiamo collaborato a proposito di alcune mostre, di alcuni eventi d'arte molto, molto importanti. Prego. Signor Luigi Nuzzaci. Vice sindaco di Sogliano Cavour. Prego, dai il microfono, grazie. Buonasera, saluto tutti quanti con un abbraccio simbolico, è molto piacere e approfittiamo in questa serata, come da un po' di anni a questa parte, per incontrarci, per parlare di cultura, ed è un appuntamento molto piacevole, è quasi diventato come il panettone a Natale a cui non ci si può fare a meno. Quindi ringraziamo, al di là della battuta, Italianarte, i suoi collaboratori, in primis perché la cultura esposa questa sera anche i diritti umani, sono le basi per una società civile abbastanza che guarda al futuro. Grazie di tutto e buona serata. Grazie, buonasera a tutti. Io credo che, non mi ripeto, voglio soltanto dire che è importante che un'associazione internazionale possa dare una testimonianza a coloro i quali operano nel silenzio, sia come artisti, nel senso che con loro opera, arte, riescono a dire ciò che pensano, e sia con i quali operano nei diritti umani che sono le persone invisibili, che questa sera avranno voce. Io credo che il bello di questa manifestazione è che chi non ha voce, si dà voce. E questo è grazie ai Fredri Chiaverini con Italianarte. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie mille, ovviamente, agli organizzatori della serata. per me è un piacere ormai da anni essere qua. Ovviamente anche perché attraverso questa manifestazione si continua a parlare di diritti umani, visto il periodo che stiamo vivendo un po' nel mondo, colgo l'occasione per dare un po' l'appello a chiunque di informarsi, di conoscerli, ovviamente per poterli applicare. Fiorella Cerchiara è presidente di una nota associazione per i diritti umani? Sì, noi ci occupiamo di divulgazione, ovviamente di promozione dei diritti. Troppo spesso si parla solo delle violazioni, noi diciamo siamo un po' in gradino. Prima ci occupiamo proprio di istruire, di promuoverli, quindi facciamo diversi lavori, sia in Italia che all'estero. Ti sei adoperata per raccontruire alcune scuole in Africa? Sì, inoltre ovviamente penso uno dei diritti più importanti è il diritto all'istruzione, quindi stiamo costruendo queste scuole in Ghana, invece in Togo, in Repubblica Democratica e il Conco stiamo lavorando con le scuole per far sì che anche loro conoscono i propri diritti. Grazie Fiorella, grazie. Buonasera a tutti, è bellissimo ritrovarsi qui con me ogni anno ed è un grande onore per me far parte di questa grande famiglia, di questi artisti provenienti da tutte le parti del mondo. Grazie agli in arte per avermi dato questo grandissimo onore e piacere. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Come sempre, l'Ital in arte si identifica sempre di più nel tempo. A parte la... voglio dire questo, che è stato detto qualcosa su Bernini, ma io volevo dire qualcosa su Anna Frank. Quest'estate, mentre scrivevo un libro che sto scrivendo sui campi di prigionieri tedeschi, mi incontro con il campo Nono C. All'inizio vi giunsero 600 prigionieri belgi e francesi. Nell'aprile del 41 raggiunsero in quel campo oltre 24.000 prigionieri russi. fino all'aprile del 43 ne morirono circa 19.000 per maltrattamenti, fame e malattia tifoidea. Nell'aprile del 43 il campo fu svuotato e vi giunsero prigionieri ebrei. Erano chiamati così prigionieri ebrei perché erano ebrei particolari. Dovevano essere scambiati come ostaggi per i civili tedeschi. E lì, alla seconda entrata, entrò Anna Frank dove trovò la morte. Quando era nascosta in soffitta lei guardava dietro la tendina dell'albaino e vedeva gli uccelli volare. Si immedesimava agli uccelli. Voleva anche lei volare e posarsi libero su qualsiasi cosa. Ecco, il sogno della libertà ed è il sogno dell'umanità. Il sogno libero dell'umanità. Con la speranza che un giorno lo si raggiunga prima o dopo. Grazie. Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Partecipare a queste manifestazioni che non è la prima a cui partecipa è veramente un'emozione. è sempre un'emozione. Anche perché i temi di cui si dibatte, i temi di cui si parla sono sempre diversi. Specialmente questa sera dove si parla di Bernini che per quanto riguarda l'arte di Bernini che non è il mio compito parlare. Ma soprattutto per quanto riguarda i premoli diritti umani riferiti ad Anna Frank. E che dire, io sono onorato di far parte di questo comitato. Sono molto contento e devo ringraziare il dottor Chiavarini, sia il dottor Dario Chiavarini che il dottor Roberto Chiavarini che il presidente, gli ho detto invertito, ma comunque io li devo ringraziare per questo e nello stesso tempo queste due persone sono due guerrieri. Io li definirei veramente, consentitemelo a dirlo, li definirei due guerrieri perché sono tutti i giorni sul campo per far sì che i diritti umani vengano attuati, per far sì che i diritti umani ogni giorno possono prendere, come dire, possono prendere piede e possono affermarsi i diritti umani. Grazie e buon proseguimento. Il dottor Vuodi è stato assessore del Comune di Monte Giordano, quindi viene dalla Calabria e probabilmente ha confuso me e mio fratello per i bronzi di Riace. Grazie a lo stesso. Grazie.